Buongiorno a tutti, oggi è domenica 9 ottobre, sono le 11.37 e parleremo per la terza analisi del weekend dell'indice italiano, ovvero del MIB. Dopo una ripartenza un pochino più alta di quello che mi aspettassi, avevo disegnato il rimbalzo per la chiusura dell'inverso, ma ci sono così tanti punti in salita, tutto corretto, l'analisi era questa, rimbalza e poi discesa, rimbalza e poi discesa, finalmente sono iniziati ad arrivare candele rosse, abbiamo chiuso il gap up fatto in partenza, in apertura il 4 di ottobre, e abbiamo iniziato a scendere, l'abbiamo appunto ricoperto. A che punto siamo? Siamo al punto che conviene andare a guardare che cosa sta succedendo a livello dei cicli superiori, ovvero anche se le analisi sono tutte corrette, anche se provano a dare fastidio con delle bull trap e tutto il resto, noi dobbiamo sempre ritornare a capire a che punto siamo arrivati. Qui sono 194 giorni che siamo sotto questo massimo, ovvero non soltanto è partito ormai serenamente un ciclo annuale da questo massimo, ma ci sta dicendo qualcos'altro. Sappiamo a questo punto, con tutto questo tempo sotto i 28.212, che non sta più soltanto iniziando... un biennale di inverso. Ma sta iniziando ufficialmente un pluriennale di inverso. Inverso non vuol dire un pluriennale vincolato di basso, lo ripeto perché lo vedo spesso scritto per chi magari è agli inizi. Inverso significa cicli che spingono verso il basso, partendo da massimi, e poi ritornano verso l'alto. In base a dove chiude il massimo, da questo massimo per dire a questo massimo, sappiamo che qui è rialzista di inverso, si dice, mentre invece i prezzi stanno scendendo. Per questo motivo bisogna fare molta attenzione, perché se comunque abbiamo già un ciclo estremamente rialzista di inverso, ovvero che sta spingendo i corsi molto verso il basso, siamo passati appunto dai 28.000 ai 20.000 praticamente, bisogna fare attenzione perché dopo che avrà fatto il baffo di chiusura, dopo che avremo fatto i ragionamenti su indice, e quando avrà fatto un rimbalzo per andare a chiudere tutta questa struttura, che però potrebbe chiudere anche tra 256 giorni, anche tra 336, volete che aggiunga un piccolo disegno? Potrebbe fare, come già detto, poi baffo di chiusura e poi boom, partenza di nuovo annuale inverso, che però potrebbe partire in tantissimi modi differenti, e a un certo punto che se si vincolasse superando il massimo da cui è partito, ci porterebbe almeno una risalita temporanea, da misurare nel tempo, ma questo è il percorso che ci aspettiamo. Comunque un annuale inverso, che fa parte di un pluriennale inverso, ecco, il mercato lo digerisce anche a colpi di discese, e se prendiamo anche atto che lassù si può essere chiuso un decennale, ecco, la situazione sicuramente sui mercati, come avevo già detto, non è delle più rose. Altra cosa, ritorniamo anche lato indice. Lato indice, secondo t più 5, ovvero secondo ciclo annuale, può aver chiuso su questo minimo qua? No, 161 barre non fanno minimo 192, quindi ha chiuso qui, con un'aggiunta di raccordo. Entro le 256 barre di tempo medio, 253, quindi qui abbiamo chiuso. Qui perché posso dire che è molto probabile che sia partito un nuovo ciclo annuale, che si sia già vincolato a ribasso? Per il fatto che gli swing li abbiamo violati tutti, non abbiamo violato swing solo per la partenza di un altro t più 3, un altro ciclo trimestrale, abbiamo violato gli swing che ci dicono che è purtroppo estremamente probabile che sia partito appunto il t più 5. E oltretutto, perché sappiamo che può essere partito per le condizioni necessarie sufficienti un nuovo annuale? Per il tempo, perché bastano 48 barre sopra un certo minimo, e noi qua ne abbiamo per esempio 52, per decretare insieme allo swing la partenza dell'annuale. Quindi, ora abbiamo ricapitolato la situazione, forte probabilità di una continuazione, rimbalzi a parte, rimbalzi del gatto morto a parte, di discesa. Qui siamo anche a già 93 giorni di inverso, primo t più 3 inverso, secondo t più 3 inverso, primo semestrale inverso, secondo ciclo trimestrale inverso che mediamente lo compone. Dove può aver chiuso il primo mensile di questo trimestrale inverso? Qua può aver chiuso a 19 barre? No. Qua può aver chiuso a 35 barre? Sì. O è ancora in chiusura per fare un baffo? Oppure, se da qui partirà un nuovo mensile inverso, si va giù. D'accordo? L'inverso ha bisogno sempre di tornare con l'indice, è per quello che l'evoluta funziona molto meglio della ciclica base, perché l'evoluta tiene conto di tante cose che purtroppo chi utilizza ancora la ciclica di Hurst o del migliorino non riesce a vedere, ok? Qui, tra l'altro, togliamo anche questo perché non ho aggiornato bene il grafico. Pensavo di aver fatto un miglior lavoro, ma qui siamo a 10 barre, ok. Bene, vedere che comunque tutto torna e che tutto questo impegno sui grafici che non vedete perché vi arriva soltanto il video, effettivamente porta a risultati. Adesso qui aggiungiamo anche il nostro new TI. Abbiamo già serenamente anche in questo caso tutte le condizioni per la partenza di un ciclo T inverso, di settimanale inverso. Vediamo, in realtà abbiamo già quelle quasi di un T più 1, di un B settimanale inverso. Quindi vedremo se questa è stata una bull trap come altrove e noi abbiamo tenuto duro perché avevamo un trade di medio periodo anche qui e nei tre di medio periodo 500 punti sono la normalità. Mi spiace per chi non le sa queste cose perché magari è iniziato da poco tempo, ma se si vuole fare il trend follower bisogna essere disponibile ad allargare gli stop e eventualmente ad aggiungere altri chip. Ma in ogni caso appunto perché l'inverso deve tornare, perché se da qui partirà un nuovo mensile inverso, oltre a un settimanale inverso e un T più 1 inverso, noi abbiamo ancora questa cosa qua da fare. Noi siamo arrivati a 22 barre su minimo 24 di un mensile già completamente vincolato di basso. Quindi minimo fino a martedì 11 in chiusura e noi dovremmo provare a ritornare sotto questo minimo a 20.183. Un ciclo settimanale peraltro dura? Quanto? Fino a 11 giorni? E qui ne abbiamo. Abbiamo fino a venerdì 14 per provare ad andare appunto qui sotto. Il target è questo. 20.183. E noi siamo soltanto a 6 giorni. Comunque condizione necessaria e sufficiente per la chiusura del terzo T potrebbe far portare ancora un quarto, tutto quello che volete. Ma nella realtà dei fatti osserviamo il T più 2 e con quello possiamo dire che grazie al T più 2 vincolato a ribasso, il mensile vincolato a ribasso, se la durata minima 24 e siamo vincolati, come detto, più passa il tempo e più non solo dovremmo continuare a rimanere sotto questo minimo ma andare anche sotto questo a 20.183. Per ora il disegno era corretto come di consueto, analisi precedente corretta, bella finta per ora, bella bull trap in cui tanti rischiavano di cadere. Vediamo dalla prossima settimana in avanti se continuiamo a scendere a trovare il livello che vi dicevo. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. Oggi è domenica di pioggia quindi posso dedicarmi di più alle analisi e poi leggere magari un bel libro e vedere un bel film. Arrivederci! Grazie! Grazie! Grazie!